What you giving, that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed, I hear a lot of people Bella a tutti ragazzi, sono TheGlaryNet e benvenuti in questo nuovo video Oggi signori, siamo tornati su Fortnite Finalmente nel 2021, mi raccomando ragazzi di supportare il mio canale E iscriviti al canale, perchè siamo arrivati a 54 iscritti Allora raga, dando buon 2021 Speriamo che stiano andando in buono Vada per iniziare questo 2021 bene Si spero E' utile di far fare una parte mentale, c'è online C'è Ricky Ok E' utile di farlo in qualche partita così Mi raccomando di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale Bene, iniziamo Questo 2021 Allora ragazzi Oggi salutiamo Matteo Bosco Ciao Matti Riccardo Saluto Andrea di Noce E Federica di Noce Ciao Feder Ah, per quanto riguarda la sorpresa Che dovevo farevi Non vi preoccupate Non vi preoccupate perchè Farò poi un video Tranquilli Prima che inizi da scuola Quindi state tranquilli Allora raga, vediamo un po' Allora Andiamo Va bene Va bene Raga Dai, oggi c'è da giochiamo bene Ok 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 Beh Non so se posso andare già a pushare Però sinceramente Con una risoletta che affaccio Ok, c'è un fucile d'assalto Ok Ok Oh è un pompa Dai Non male, non male Per iniziare Faccio una bella testa Faccio una bella testa Un scudine Un scudine Un scudine Mi metto Qui Faccio un scudine Faccio un scudine Ok 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 Ormon No Raga comunque se è perdo Non è perché faccio schifo Non pensate questo Il problema è purtroppo il telefono Il telefono certe volte raga Certe volte no quindi non capisco il motivo Comunque più avanti farò anche delle Partite a squadre Con i miei amici quindi mi raccomando Di guardarle E niente raga Mi dispiace veramente che Non porto mai l'abitore reale Su Fortnite Non è per male Spero veramente di portarla Comunque anzi ci riuscirò a portarla No poi Perché ve l'ho detto Purtroppo qui lagga un po' Comunque mentre che ci sono Faccio anche un po' di emissioni Beh ricerchiamo un'altra partita Stavolta andiamo Io direi di andare O a Torri di Bislacche Oppure al Lago d'Anguido Boh non lo so Ora vediamo Mi raccomando Se non ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al canale E di cliccare la campanellina Per ricevere sui notifiche Sul canale Mi raccomando Ma però Ma pure anche se vi sudate Non mi sarebbe meglio Non mi sarebbe meglio Dai si 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 Diretti per se vi sudate Ora poi più avanti Inizierò a risolvere poi i problemi Per quanto riguarda le live Perché ho riscontrato un po' di problemini Per quanto riguarda le live su Fortnite Che voglio provarne a farne qualcuna Ma ho visto che c'è avuto un po' di problemi Quindi Non credo il motivo Perché Però speriamo bene Ma perché mi fai atterrare Sì Si direi che mi fai atterrare Sì mi fai atterrare Perché mi fai atterrare In un altro posto Ok ragazzi Siamo stati sudate Speriamo che non l'avete Perché Minceramente Paterisco Per l'ingalla In più Si è finita a fare Le emissioni Va bene E terriamo qua Ok Già abbiamo Delle bende Che possiamo Già prenderci Perfetto E iniziamo a cercare Le casse Ok Qui c'è un bel pompa Inizio A fare Comunque mi piace Per capire meglio Di quello che sta parlando Comunque Dove vedrete I dettagli Quando farò Il video Di Miracolo Vi iscrivi al canale E cerchiamo di arrivare Almeno i 100 iscritti E inizio Vieni a cerchiamo di arrivare E' 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 Ok raga Tutto bene ragazzi Tutto bene Ok Ok devo andare in safe Un attimo Ok ci giriamo Sopra c'è una tassa 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 Così E non ci dobbiamo Poi abbiamo in grigio Bene bene Di resto stavo guardando io Ok raga Può andare Infatti ho visto c'era un fucile d'assalto Se non mi sbaglio Se non mi No Niente stavo scarsando Non c'era un fucile d'assalto Va bene raga Un po' lagga Quindi Un po' mi dispiace se lagga un po' Ma purtroppo Questa è Purtroppo Come dice Dice un proverbio in siciliano Questo è d'assilo E quindi che ci possiamo fare raga Io spero veramente che i miei video mi piacciono E quindi mi racconi si vede al canale Per supportarmi Guarda Guarda No dai No 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 dai Ma perché mi si bugga quando devo sparare Oh però questa cosa non mi piace però Non è giusto Non si bugga sempre quando devo gioco E poi ragazzi Questa cosa è bella Che quando non faccio i video Non mi indaga Cioè per me Fortnite lo fa apposta Cioè ma Ma veramente ragazzi Proprio Mi sta dando fastidio Stato con questa cosa Ok c'è Enrici Viene Non è la partita Mi ha chiuso da raga Il tempo di imitare i righi E poi possiamo fare qualche partita Non è la partita Bene raga Pazienza Facciamo un'altra partita Così E poi direi Una o due partite Dopodichè Potrei anche staccare Qua Dato che ho un po' di oro Vedo che ho 1.3 di oro Potremmo andare A cattogrid Così Vado a riscattare Un po' le ricompense Per contribuire I fucili E altre cose Vedo che c'è Quello che ti da De armi Tecnicamente Gratis Quindi Andiamo a cattogrid Sinceramente E Bene Come se non ci avete fatto caso C'ho Un nuovo piccone Anzi no Tre nuovi picconi Perché Ho quello Con Come si chiama Quello con Un patino Per Per Scegliare Per Battinare Poi ho Quello Di Mancake E Infine Questi qua Che mi hanno dato Come regalo Da Epic Per quanto riguarda Come regali Natalizi Allora Io devi andare A cattogrid Cattogrid Ancora un po' di antemino Infatti Cattogrid E qua Va bene Siamo vicino al lago L'anguido E a cattogrid Va bene raga Va bene va bene Siamo fiduciosi Un attimo Mettiamo il punto Cattogrid No Siamo un po' troppo Ok quindi Già possiamo Già Riffarci E al posto di andare Nel punto Dove io Ho destinato Andiamo A cattogrid Prendiamo le armi Perché ci sono Un sacco di armi E poi Facciamo un po' Un sacco di armi Un sacco di armi Ok raga Ok raga Va bene Possiamo Spostare un po' Di materiali Un sacco di armi Un sacco di armi Un sacco di armi Ok raga Le armi Che ci sono Un sacco di armi Le armi Nei Al posto di armi Un sacco di armi Un sacco di armi 0 della serie cerca pure per il tuo corpo c'è qualcosa all'interno c'è una sosta a catto grid che devo andare a catto grid ma spiegabilmente sono attirato un po prima di catto grid anzi un po dopo andiamo a catto grid ah ecco qua faccio una sosta a catto grid prendo le armi quelle che devo prendere spero che ci arrivo vado dal boss prendo tutto quello che possibili fermo che c'è un pompa blu fermi 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 un po' di schiena e che fai che mi chiede il pompa blu c'è un po' di manuzioni e adesso o sotto o sopra non mi pare sopra qui sopra tira sopra c'era un fucile d'assalto uno scildone che ora non lo facciamo ecco fatto scildone fatto ecco per la prima parte cento di capri ancora non siamo cittadini catto grid un uomo che vado prima So che ora So che c'è la safe Devo correre Aspetta Ciao Insegna un'arma potenziabile No non volevo spararti Non ti volevo spare scusa Ma perché non ho fatto sparare Non capito neanche io Non volevo sparare Non volevo sparargli Io volevo sapere un'arma Aiuto Non volevo sparare al boss Non volevo sparargli Mi sapevo che gli ho sparato Che non era mia intenzione E io per me ne ho fatto subito Non era l'intenzione di sparare al boss Ok raga posso No No Flusso 2 De palline Aspetta Sono un po' di diverghe per il ponto Ok 13 per il ponto Però sinceramente No Non sta vivendo da safe Sta vivendo da tempesta Sì Sono un'arma potenza Ma questo sbaglio 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 E' Sbaglio Sbaglio Ma non sto con un fucile E sono protetto Protetto Tecnicamente Tecnicamente parlando Ok Comunque ci stiamo avvicinando Però spero che ci arrivo prima Ok Ok Ci siamo quasi Non mi come pochi metri Ok Ok Siamo giocati Siamo usciti Da teglia Nero Odo E siamo vicino Alla safe No 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 Va bene ragazzi Ci vediamo in una prossima In un prossimo video Alla prossima live E ciao